Ma che cos'è un RAMDisk? Ma come funziona un RAMDisk? E come si crea un RAMDisk? E a cosa serve un RAMDisk? Praticamente da quando ho aperto questo canale, all'interno dei commenti nella community si sono andate via via appastellando queste domande su questo oggetto misterioso dell'informatica a cui fino ad oggi non sono riuscito a dare colpevolmente una spiegazione univoca. Ebbene, un RAMDisk è uno strumento assolutamente virtuale che a costo zero, soprattutto se abbiamo un vecchio disco molto lento oppure se vogliamo aggiungere un nuovo disco veloce, ci consente di farlo andando a rubacchiare un pochino della nostra RAM e creando un'unità virtuale performante quanto se non più ancora di un disco SSD. E allora non perdiamo altro tempo e lanciamoci insieme all'esplorazione dei RAMDisk. Ti senti pronto? Iniziamo! Prima di continuare con il video di oggi ti rubo qualche secondo per darti un paio di notizie che a mio avviso sono importantissime anche perché se ne è parlato tanto in community mi è stato chiesto e quindi vorrei dare una risposta ufficiale in merito. È passato circa un mese da quando è uscito il famigerato aggiornamento KB5034441 che generava una serie di problemi e blocchi sui computer Windows 10 e di cui aspettavamo ansiosamente una soluzione da Microsoft. Ebbene proprio oggi Windows Latest è venuto fuori con una notizia che riporta, leggo testualmente, che Windows 10 in quell'aggiornamento non ha ancora ricevuto alcun fix ai suoi bug a più di un mese dal suo rilascio che è avvenuto la bellezza del 9 gennaio 2024. Il problema più grosso è che questa versione di Windows 10 è un aggiornamento obbligatorio e che quindi dovrai fare necessariamente se disponi di Windows 10 che dovrebbe risolvere un'importante falla di sicurezza ma in realtà blocca i computer. Quindi mi spiace ma al momento non ci sono ancora novità e i computer bloccati da questo aggiornamento possono utilizzare solo quei metodi molto casalinghi di risoluzione che ho portato in un paio di video precedenti che comunque ti lascio in descrizione. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. E sempre a proposito del fatto che potrebbe anche piovere eccoci qui con un nuovo malware. Si chiama Gold Pickaxe ed è un malware molto particolare. Riesce infatti ad infettare sia i dispositivi iOS e quindi gli iPhone che gli Android. Una volta che entra su un telefonino va a rubare tutte quante le credenziali biometriche e grazie a queste è in grado di effettuare anche purtroppo l'accesso ai conti bancari. Abbiamo parlato in un video precedente dell'insicurezza assoluta delle password e di quanto siano insicure anche le stesse credenziali biometriche e quindi il riconoscimento facciale, l'impronta digitale e così via. Ti ricordo che l'unica soluzione affidabile al momento per proteggere i tuoi dati, i tuoi computer, i tuoi dispositivi e i tuoi conti bancari sono le paschi. Ne abbiamo parlato nel video dedicato che ti lascio sia linkato qui in alto che nella descrizione di questo video e ti invito quanto prima a munirti anche tu della tua paschi. in modo da poter chiudere questo tristissimo capitolo dell'informatica. Ma torniamo a noi. È lecito chiedersi che cosa sia un RAM disk. Un RAM disk è un'unità disco virtuale che viene creata per mezzo di un programma specifico come vedremo a breve e che andando a rubacchiare una porzione della nostra RAM è in grado di generare un'unità disco appunto virtuale estremamente veloce e performante. Decisamente molto più veloce di un disco meccanico e talvolta più veloce anche di un disco SSD. I RAM disk vengono utilizzati nel momento in cui abbiamo qualche dato che gira troppo lentamente per causa della lentezza del nostro disco e vogliamo velocizzarlo. Ad esempio programmi di grafica, videogame e così via. Naturalmente purtroppo i RAM hanno anche qualche piccolo svantaggio. Il primo è quello di andare a sottrarre un pochino di RAM dal nostro sistema ed il secondo è quello di essere volatili. Ma se nel primo caso non abbiamo nessuna soluzione, nel secondo caso c'è una bella soluzione che ci viene portata proprio dal programma di oggi. E allora andiamo a procurarcelo questo programma. Naturalmente come sempre andremo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale come sempre. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomo.it. Clicchiamoci su e nella pagina che si aprirà ci porteremo nella sezione downloads qui in alto. Una volta aperta la sezione download ci possiamo portare un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama IMDisk, oppure potremo utilizzare la lente di ricerca qui in alto per andare a ricercare appunto sempre IMDisk. Una volta individuato facciamo clic sul grosso pulsante azzurro file download e attendiamo che venga scaricato il nostro programma. Ecco fatto, è stato scaricato e quindi a questo punto andremo a vederlo nella cartella. Una volta aperta la cartella compressa in cui è stato scaricato potremo chiudere la finestra del browser retrostante. Quello che dovremo fare adesso sarà andare a fare un clic con il pulsante destro sul file che abbiamo appena scaricato, quello che si chiama IMDisk.dk-x64 e scegliere la voce estrai tutto. Clicchiamo sul pulsante estrai e ci ritroveremo con un'ulteriore cartella appena estratta. Andiamo ad aprire l'unica sottocartella al suo interno e lanciamo il file che si chiama install. Verremo avvisati che si tratta di un file che Windows non conosce e quindi andremo a cliccare su ulteriori informazioni e successivamente su esegui comunque. Ci verrà chiesto di autorizzare che vengano apportate modifiche al sistema, cosa che possiamo consentire cliccando sul pulsante sì. Lasciamo nella prima schermata tutto quanto esattamente come si trova e clicchiamo sul pulsante installa. Ecco fatto, in un mezzo secondo la nostra installazione viene completata e possiamo cliccare sul pulsante ok e andare a chiudere le due cartelle che avevamo appena aperto. Come puoi vedere sul nostro desktop saranno comparse tre nuove icone. L'icona che ci interessa oggi è quella che si chiama configurazione RAMDisk, questa qui. Facciamo doppio clic ed accettiamo nuovamente che vengano apportate modifiche al dispositivo. Ed eccoci qui nel pannello di configurazione del nostro primo RAMDisk. La prima cosa che andremo a fare sarà la configurazione delle dimensioni del nostro disco. Queste dimensioni possono essere scelte sulla base di due considerazioni. La prima è relativa alla quantità di RAM che abbiamo disponibile nel nostro computer e la seconda in base a quelle che sono le dimensioni dei programmi che vorremmo andare a metterci dentro. Nel mio caso ho creato qui una cartella di GIMP Portable, un programma di fotoritocco piuttosto pesantuccio che come dimensioni ha un gigabyte. A questo punto il mio consiglio sarà di creare una cartella un pochino più grande. Andiamo quindi a digitare 2 e come dimensione scegliamo gigabyte. La seconda voce che ti consiglio vivamente di andare a spuntare è Alloca memoria dinamicamente. Questa serve a far sì che il computer utilizzi solo ed esclusivamente di volta in volta a seconda delle esigenze la quantità di RAM che gli è strettamente necessaria, indipendentemente dalla dimensione massima che abbiamo scelto. Possiamo quindi scegliere la lettera di unità che preferiamo. Io andrò a mettere la lettera di unità Z. Lascerò spuntato Esegui all'avvio di Windows nel caso in cui noi vogliamo automaticamente andare a rimontare nel nostro sistema questa unità e potremo togliere il segno di spunta dalla voce Crea cartella. Temp. Fatto questo ci porteremo sulla scheda dati lasciando stare la scheda avanzate esattamente così com'è e andrò a sfogliare tramite questi tre puntini al fine di andare a scegliere all'interno del desktop la cartella che si chiama GIMP Portable. Cliccherò quindi su OK per andare a montare questa cartella come unità Z e nel mio computer andando ad aprire l'Esplora File vedremo che sarà comparsa una nuova unità Z che si chiama appunto RAM Disk e che contiene il nostro GIMP Portable. A questo punto non ci resta che andare a provarlo. Faccio quindi doppio clic sull'eseguibile di GIMP Portable nell'ambito del mio RAM Disk e come vedi in un millisecondo GIMP si apre e naturalmente è anche utilizzabilissimo. Funziona alla perfezione. Ma adesso chiudiamo GIMP e vediamo come va gestito un disco virtuale. Come puoi vedere il nostro disco virtuale è grosso 2 GB e lo spazio occupato è esattamente quello che ci aspettavamo ovvero un GB cioè le dimensioni della cartella GIMP Portable. Nel momento in cui tuttavia dovessimo andare a cliccare sul pulsante OK vedremo che veniamo avvisati che il volume verrà smontato e che tutti quanti i dati non salvati naturalmente all'interno di questa cartella andranno persi. Clicchiamo quindi sul pulsante annulla e cerchiamo di capire come ovviare a questo problema. Tanto per cominciare se ad esempio come me lavori con un programma che si trova nel RAM Disk ma vai a salvare i prodotti del tuo lavoro ad esempio le immagini che avrei creato con GIMP su un disco fisico e quindi sull'unità C, l'unità D, sul tuo desktop o altro questo problema non si verificherà perché il RAM Disk verrà chiuso quando termini il programma o riavvii il sistema ma tutti quanti i dati salvati al di fuori rimarranno. Se invece hai necessità di salvare lo stato del RAM Disk esattamente com'è nel momento in cui vai a chiudere tutto quello che dovrai fare sarà spostarti nuovamente qui in alto sulla scheda dati e andare a selezionare la voce che si chiama sincronizza all'arresto del sistema. Potrai lasciare le altre due voci così e cioè copia solo i file con l'attributo archivio deselezionata e lasciare magari selezionato e elimina i dati rimossi dal RAM Disk. Nel momento in cui volessi effettuare una sincronizzazione estemporanea ti basterà cliccare sul pulsante sincronizza ora. Facciamo un esempio pratico. Se io vado sul mio RAM Disk che si chiama Z e creo un nuovo documento di testo che vado a chiamare test questo documento sarà presente sul disco Z ma non lo ritroverò sulla cartella da cui ho creato Z. Qui infatti come puoi vedere questo documento manca. Nel momento in cui tuttavia vado a sincronizzare i dati dopo un breve tempo di sincronizzazione lo stesso file sarà comparso anche sulla mia cartella e automaticamente tutto quanto verrà salvato anche nel caso in cui io non cliccassi su sincronizza ora e andassi ad arrestare il sistema perché appunto ho inserito questo segno di spunta. Andiamo a verificare nella cartella originale di GIMP e vediamo che anche qui è ora presente avendola sincronizzata il file che si chiama test. Tutto qui. Scusami tanto per la spiegazione finale forse un po' lunga e arzigogolata ma non sono riuscito a chiarire meglio questo concetto che spero invece sia arrivato in maniera chiara e lampante. In ogni caso naturalmente qualora ci fossero dei dubbi o delle perplessità ti prego di farmelo sapere nei commenti o anche nel forum del canale. E veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno a Luca Fra, Giuliano Della Pina, Antoine Salerno, Luca Vaccari, Angela Chiapponi e Giuseppe SciRe per essersi abbonati barra riabbonati al canale. Mentre due ringraziamenti speciali vanno a Giorgio Brusasco e Mario Dotta per essersi invece abbonati in qualità di distinti gentiluomini e quindi mi levo il cappello davanti a voi. Ma un ulteriore ringraziamento va a Zakuma68 per il suo generosissimo super grazie. Signori vi ringrazio tutti quanti infinitamente per il vostro supporto, per la vostra simpatia e per la vostra generosità. Ma come ben sai mi manca ancora un ringraziamento che non mi dimentico di certo ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia fino in fondo e magari mi piace pensare che ti sia divertito insieme a me. E detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima!